ciao a tutti oggi prepareremo il gelato all'anguria il tempo di preparazione della ricetta è di 3 minuti circa gli ingredienti sono succo di anguria congelato latte intero congelato a cubetti zucchero succo di limone e qualche fogliolina di menta per decorare i quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it diamo il via alla ricetta inizia a polverizzare lo zucchero mettiamo lo zucchero all'interno del boccale e lo polverizziamo per 10 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo lo zucchero con l'aiuto di una spatola perché diciamo spesso riuniamo sul fondo lo zucchero con l'aiuto di una spatola perché altrimenti lo zucchero resterebbe attaccato alle pareti e non si andrebbe ad amalgamare con il resto della ricetta gli ingredienti della ricetta adesso andiamo ad aggiungere il latte congelato a cubetti vi consigliamo di uscire sia il latte congelato che il succo di anguria congelato almeno due tre minuti prima di iniziare la ricetta aggiungiamo il succo di limone e andiamo ad amalgamare il tutto per 30 secondi a velocità 8 spatolando il nostro gelato è quasi pronto andiamo un attimino a verificare la consistenza andiamo ad amalgamata lo facciamo andare per altri 10 secondi a velocità 10 il nostro gelato è pronto andiamo a impiattarlo gelato all'anguria grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti